Grazie a tutti! e ricacciano degli abissi, dove non basta più se vuole le anime, vive sotto dal Signore, che siano dispersi i Suoi nemici, fuggiano dal cospetto di Lui, modo e stronti, spanissano dove spanissano il cuore, e dove si vede, dove si vede, dove si vede, come diceva di Dio, ecco, l'acrocio del Signore, come siete potenti del Dio, con il mondo, potenza satanica, in passione del delito mondiale, con tutte le tue regioni, riunioni e sette diaboliche, il nome e autorità del nostro Signore Gesù Cristo, ve lo comanda l'Altissimo Dio, al quale il tuo grande superiore presumibile essere Signore, ve lo comanda Dio, Padre, Piano e Spirito Santo. Grazie a tutti, grazie a tutti.